Voglio essere sincero, aspettati il peggio da me, non ti sono amico, non ti sarò d'aiuto, riuscirò a piegarti. Hai domande? Voglio che sia chiara una cosa. Se avete pensato che ci fosse qualcuno che vi avrebbe coperto le spalle, vi siete sbagliati. È chiaro? Dietro di noi non c'è nessuno. Siamo soli. E prossimi a fallire. Non ci credi a questa storia? Osama Bin Laden. Sì. E come ti sei convinto? Guarda che sicurezza. Se è vero, tutto il mondo vorrà esserci. Non lo troverete mai. Non si sa dove sia finito. Non lo troverete mai.